Rita Severino 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 dall'inizio dell'insegnamento di Pietro Fuda e non solo, i vostri rapporti si sono inclinati subito dopo con la nomina dell'Aggiunta e forse anche prima ritengo, nel senso che di fatto voi ponete, si dice e comunque poi non puoi non confermarmelo, che i vostri rapporti sono inclinati soprattutto per il fatto della presenza non ufficiale, ma ufficiosa di Mimmo Panetta nelle decisioni o comunque nell'amministrazione comunale, è vero o non è vero? Sicuramente innanzitutto perché poi, perché ricordiamo, io faccio per chi non lo sa, ma chi vive siderne non solo, la politica del territorio lo sa benissimo, posso definirti una figlioccia di Panetta politicamente ovviamente, perché sei nata con il Partito Democratico e con Panetta, rapporti che poi si sono inclinati definitivamente anche con l'avvento dell'amministrazione Fuda. Allora, io ci tengo a precisare una cosa, l'ingegnere Panetta, anche lui assieme a Paolo Fragomeni a me è stato uno dei fondatori del Partito Democratico, assieme a Luciano Racco, allora consigliere regionale, ed io effettivamente all'indomani del mio rientro dall'università mi sono candidata con Mimmo Panetta, allora c'era il movimento civico alleanza per Siderno, non so se te lo ricordi, i miei fratelli sono stati consiglieri comunali con Mimmo Panetta, hanno sempre sostenuto, quindi abbiamo sempre sostenuto la politica di Mimmo Panetta, entrando quindi io poi in un secondo momento a livello di partito, sono nata con il Partito Democratico, perché anche quando in Consiglio Comunale si erano create alleanza per Siderno, DS e la Margherita, sono rimasta sempre alleanza per Siderno, non ho mai aderito ai DS, quindi nasco con il Partito Democratico e divento segretario del Partito Democratico per Mimmo Panetta per Luciano Racco, è assolutamente vero, quindi definisci bene figlioccia, soltanto che poi le cose sono cambiate, in che senso? Io sono rimasta lì dove ero, sono rimasta nel Partito Democratico, sono rimasta segretaria del Partito Democratico e ho continuato quindi a portare avanti la linea politica del Partito Democratico, all'indomani dell'uscita di Mimmo Panetta dal Partito Democratico, ho deciso di non seguirlo, né io e né il gruppo dirigente, né alcune persone che storicamente per 30 anni sono state vicino alla politica di Mimmo Panetta e probabilmente questa è da lì che deriva la rottura, la vera rottura con l'ingegnere Panetta, perché il fatto di aver giustamente per quanto mi riguarda, perché io se sono segretario del Partito Democratico e sostengo il Partito Democratico, io ho sostenuto il Partito Democratico alle elezioni regionali scorse, lui probabilmente si aspettava un aiuto diverso, si aspettava che probabilmente io fossi un po' più trasformista, definiamo così, però è cosa che non fa parte del mio DNA politico comunque e quindi ho continuato, ho sostenuto l'onorevole Sebbi Romea, allora segretario provinciale del Partito Democratico, assieme comunque anche altri, a vario titolo hanno portato avanti il Partito Democratico e quindi la vera inclinazione dei rapporti si è avuta a parte da lì, poi ovviamente questi rapporti si sono molto raffreddati, anche perché l'ingegnere Panetta ha sempre additato noi come quella parte che se l'avesse sostenuta probabilmente sarebbe diventato consigliere regionale, cosa che invito chiunque ad andare a vedere i dati, che non è assolutamente così perché lui è risultato il terzo eletto di SEL e quindi probabilmente come ritorsione, definiamola così nei confronti del Partito Democratico, all'indomani nelle elezioni comunali dove ha potuto mettere lo sgambetto al Partito Democratico lo ha fatto e quindi Fuda che ha sempre visto come il primo alleato, l'alleato della prima ora in un certo senso, Mimmo Panetta, perché noi invece eravamo pronti a portare le primarie, quindi portando il nostro candidato che poi ha subito quel vile atto intimidatorio, per cui ha deciso quindi giustamente anche di tirarsi e noi per spirito, per tenere unito il centro-sinistra abbiamo fatto questo tipo di scelta, quindi di portare avanti mantenendo unito il centro-sinistra, sostenendo Fuda, in realtà poi ci siamo accorti che Fuda ha privilegiato una parte della coalizione e se noi avessimo saputo questo dall'inizio noi avremmo potuto anche fare delle scelte differenti, avremmo potuto anche decidere di concorrere da soli, ma in realtà gli accordi erano altri, gli accordi è quando il Partito Democratico è il primo partito di fatto e poi si ritrova a non entrare addirittura in giunta perché c'è uno sgambetto, perché si cerca di mettere le mani sul Partito Democratico decidendo chi doveva entrare, chi doveva essere il Presidente del Consiglio, noi a questo punto ci siamo tirati fuori, inizialmente tu ti ricordi benissimo, il primo Consiglio è stato uno scontro totale, in seguito poi per il bene di Siderno, perché comunque per noi prima ancora il partito viene il benessere della nostra città e quindi per il bene di Siderno abbiamo deciso di dare un aiuto esterno al Partito, al Sindaco e quindi a questa maggioranza, a questa amministrazione, però poi dopo i primi sei mesi abbiamo visto già facendo un bilancio che alcune cose non andavano bene e abbiamo scritto, abbiamo voluto incontrare il Partito Democratico e il Sindaco proprio di questi periodi lo scorso anno, il periodo natalizio, lui ha detto che avrebbe modificato e rettificato alcune cose, in realtà passati gli altri sei mesi e quindi arrivando in estate non è stato modificato nulla nella gestione né nell'ordinare amministrazione, in nulla, perché i problemi, non dico tanto, ma almeno nell'asso temporale di un anno già qualche risultato si doveva vedere, in realtà noi non vediamo nessun tipo di risultato e quindi abbiamo deciso quindi di prendere le distanze e di passare assolutamente all'opposizione, fermo restando che se c'è qualcosa di buono noi lo sosteniamo, come neanche per esempio quando il Sindaco, perché il Sindaco si rende conto che è l'unico partito, l'unico vero partito su cui può contare, è il Partito Democratico e ci coinvolge in tante cose, vedi la questione dell'ABP dove noi siamo andati a incontrare il Presidente Oliverio, mi sono fatta io portavoce e siamo andati a incontrare il Presidente Oliverio, vedi su tante altre questioni come la Casa della Salute, vedi anche la questione del lungomare, su tante questioni importanti e sempre il Partito Democratico in prima fila, ad aiutare a sostenere per il benessere di Siderno il Sindaco Fuda, però per quanto riguarda la questione gestionale così ordinaria, noi siamo assolutamente contrari a come stanno effettivamente gestendo e amministrando Siderno. Senti, andiamo adesso alla difesa piena del tuo partito, il Partito Democratico, abbiamo visto proprio in concomitanza poi, tu dici sono rimasta male del fatto che un Ministro venendo proprio a Siderno, vivesse proprio la parte peggiore della mia città, un atto intimidatorio, un atto comunque a parte a Maria Teresa Fragomeni, ma comunque a un esponente di un partito, Magorno si schiera apertamente, scende, perviene a Siderno, proprio in un comunicato che hai accenato tu, dice una farsa questo Consiglio Comunale, parla anche di una direzione regionale, proprio per dare importanza e dire noi ci siamo a Siderno. Sì, la cosa che ho sempre detto, ho detto dall'inizio, era che oltre il fatto del dispiacere e la preoccupazione, perché non posso negare la preoccupazione dell'atto subito, era che non potessi da un lato dedicarmi totalmente a quello che era l'incontro che stava organizzando il circo del Partito Democratico con il Ministro Madia e soprattutto perché effettivamente a livello nazionale ancora una volta, l'immagine che si dà della Calabria e più in generale della nostra zona, della nostra Locride, che noi cerchiamo ogni giorno di portare fuori da queste secche in tutti i modi e io personalmente da 15 anni che faccio politica e cerco nel mio piccolo proprio di dare un'immagine diversa di questa nostra città e di questo nostro comprensorio, la cosa che più mi dava fastidio era questa immagine che probabilmente a livello nazionale poi riportandoci all'indomani a rientro a Roma, aveva l'immagine di questo nostro paese che un consigliere comunale ancora una volta veniva colpito da questo tipo di atto e di intimidazione. Magorno, devo dire la verità, mi è stato molto vicino, è già il fatto stesso di voler fare, di proporre la direzione regionale a Siderno, è proprio l'atto della vicinanza e soprattutto del fatto che noi non ci sentiamo soli, perché questo è il brutto di questi atti, che all'inizio c'è la tanta solidarietà, c'è la vicinanza assolutamente, comunque è sempre un piacere in questi casi sentirla, però di fatto poi rimaniamo sempre isolati, invece il fatto dell'attenzione che comunque continui, allora è un qualcosa che ti fa sentire meno sole. Senti, non parliamo, ci sono comunque delle indagini in corso, l'aspetto personale lo immagino al telefono, quando qualche volta ci eravamo sentiti, la cosa che dispiace di più è per le persone, le persone care che sono attorno a me, ogni 5 secondi mi chiamano al telefono per sapere come sto. Questo è vero, capisco benissimo quando dicono altre persone che hanno subito atti simili o più leggeri, più gravi, dicono sai oltre che per me è per la mia famiglia, è assolutamente vero, assolutamente vero perché io abito nella stessa villa di mia madre e vedo mia madre che ogni due per tre mi telefona e mi dice guarda sai vedo delle persone strane, si fermano al cansello, vedo delle macchine che così non conosco e passano ed effettivamente anche mio marito stesso che mi dice no, stai attento, rientra prima, aspetta ti accompagno e io da subito ho detto no, aspettate, devo assolutamente continuare la vita come prima perché altrimenti in questo già sarebbe una vittoria di chi ha voluto fare questo tipo di diatto perché lo scopo credo che sia proprio questo, cioè gettare un po' del terrore, dell'ansia e quindi in questo senso la prima paura è per la famiglia, poi da poco è nata la bimba, quindi ancora esatto, probabilmente fossi stata ancora da sola magari sarei stata un po' più spregiudicata però il fatto di avere anche una responsabilità diversa mi porta ad andare con quei piedi di piombo, fermo restando che il mio impegno è assolutamente come se non più di prima. Però la domanda uno se la fa, non si pone ovviamente perché guardi tutto ciò magari che ti è attorno come non un nemico ma sul chi va là, uno si guarda, ma domande te ne sei fatta? Tantissime, tantissime, tantissime soprattutto dopo l'evento della Maria perché prima ero ancora alle prese tra solidarietà, tra l'organizzazione, un po' di cose, però subito appena si sono calati i riflettori, le domande te le fai perché non hai idea, a 360 gradi penso, guardo che cosa possa aver detto, fatto, perché effettivamente noi di lavoro nell'ambito locale ne abbiamo fatto tantissimo, però è un lavoro che abbiamo sempre fatto, io di opposizione ho sempre fatto, anche in periodi più difficili e quindi ti domandi effettivamente ma puoi aver detto, puoi aver fatto, ma che cosa? E il fatto che io non abbia idea mi preoccupa ancora di più perché sai se avevi un minimo, posso fare questa cosa, allora magari sai, rallenti un po' il tiro, ma invece non avendo proprio minimamente idea, la testa ancora continua a ruotare a 360 gradi. Senti, voglio andare, se la regia, non so se ho avviato e si può mandare in onda anche il nostro sito, ecco, sto cliccando, arriva? Ok, ecco, perfetto, non sono garbatissi, eccolo qua, vabbè sono andata sulla story, si vede come sono, si vede che faccio sempre il ritorno in home page, eccola qua, Marina Di Gioiosa, questa è quella di oggi pomeriggio, battuta la nostra notizia, eccola qua, questa mattina sulla spiaggia di Marina Di Gioiosa è stata trovata una massa bianca di materiale solido, sono state allertate le autorità competenti sul posto della Polizia Municipale Vigili del Fuoco, del distaccamento di sederno che ne hanno recintato l'area, dai primi rilievi effettuati sembra che non si tratti di materiale radioattivo, la sostanza somiglia molto a soda caustica, ma senza analisi precisa è impossibile decifrare se si tratta di una sostanza pericolosa per l'incolumità, anche in questo caso il Comune ha avvisato i tecnici ARPACAL che saranno presso il posto, il rischio di questi, in questi casi e in particolar modo dopo la trasmissione delle iene di Tele1 è che ogni oggetto ritrovato diventi un potenziale pericolo e scatta l'allarmismo che in larga parte è motivato e giustificato. Ecco qua le immagini, stiamo vedendo le foto che ci sono giunte questa mattina, precisiamo poi la Polizia Municipale di Marina di Gioiosa, precisiamo che ci sarà anche, possiamo ritornare in studio, so che giungerà anche perché ci siamo sentiti col sindaco, un comunicato proprio ufficiale dell'amministrazione comunale e noi saremo pronti anche a mandarlo. A Maria Teresa Fragomeni colgo l'occasione perché comunque su Marina di Gioiosa c'è poi quello scomparso tra l'Occhio e Siderno, si è creato, ricordiamo che Siderno, visto che è accennato anche sui temi forti, poi siamo d'appoggio all'amministrazione, temi forti intendo la BP, un problema grave e presente a Siderno, ricordiamo dei materiali di questa ex fabbrica. Assolutamente, infatti con il sindaco Fuda siamo andati a discutere di questa questione con il Presidente Oliverio, il quale devo dire la verità è stato disponibilissimo, ci ha chiesto immediatamente una relazione che noi abbiamo, che il Comune ha già prontamente fatto, di tutto quello che risulta, di tutto quello che era la storia della BP, tutto quello che risulta ad oggi, perché oggettivamente potrebbe essere una bomba d'orologeria, perché effettivamente non si sa che cosa ci sia in questi fusti, che a quanto pare erano nascosti dalla vegetazione, qualche dubbio viene pure sull'origine, se effettivamente sono stati sempre lì o se sono arrivati in un secondo momento, il punto però è che adesso sono lì, però l'aiuto, la cosa che ci ha detto il Presidente Oliverio è che ovviamente noi in questo dobbiamo essere supportati dal Ministero dell'Ambiente, perché non è una cosa che anche la sola Regione può gestire, minimamente il Comune, ma neanche la Regione da solo può gestire, perché comunque ci devono essere dei siti, poi una volta spostati con delle ditte super specializzate in materia, però devono anche indicarci dei siti dove poter spostare questo tipo di materiale, che effettivamente preoccupa, anche perché ogni giorno, c'è stato anche fino a un paio di giorni fa, il ritrovamento di un altro fusto, che ovviamente nessuno va a toccare, a vedere, però sta di fatto che ogni giorno purtroppo, in seguito ad alluvioni o ad altre condizioni climatiche che vengono fuori, vedi anche la questione dei ritrovamenti della Limina, effettivamente è un problema importante dove non è soltanto l'ambito comunale in cui si può risolvere questo tipo di problematiche. Senti, hai parlato, quindi così ritorniamo a quello che era l'argomento, non l'argomento principale del Consiglio Comunale, ma anche perché quello ormai c'è stato, ma come pensi soprattutto, perché hai parlato di inopportunità, soprattutto di inerzia di un'amministrazione sulla gestione quotidiana, di un'aggiunta, secondo te il settore dove, che peggio, ho visto l'altro giorno un vostro botta e risposta mediatico con l'assessore al bilancio per quanto riguarda le cartelle pazze, voi dite abbiamo lanciato un problema, l'assessore dice era un problema che noi già sapevamo, stavamo lavorando, non volevamo andare sulla stampa come invece magari ha fatto il Partito Democratico, ma era un problema che noi già stavamo lavorando in sordina, stanno lavorando in sordina? Non credo, non credo perché chi fa politica sa benissimo che la prima cosa quando si fa politica o di un'amministrazione, se fai una cosa la devi dire e quindi le cose che sono stati stati fatte, il giorno dopo erano sui giornali, perciò le cose che se delle notizie non vengono riportate perché effettivamente non… Dove c'è secondo te più stallo? Ma io credo un po' in generale in tutti i settori, in tutti i settori perché sulla questione prendiamo ad esempio la questione viabilità o comunque strade, il paese è sotto gli occhi di tutti, è impraticabile, è impraticabile tra l'altro adesso da quando c'è pure questa pista ciclabile, diventa difficile anche riuscire a camminare perché di fatto non è ancora, credo perché noi abbiamo fatto un'interrogazione a cui non c'è stata ancora data risposta, non sia stata collaudata, però allo stesso tempo si sta già deteriorando. Ma il sindaco so, proprio in una mia trasmissione aveva detto noi la chiuderemo. Ma io spero che l'abbia detto scherzando, perché è una cosa gravissima da parte di un sindaco dire… Dice io me la sono ritrovata. Ho capito, ma dopo aver preso dei finanziamenti tu non puoi dire smantello la pista ciclabile, perché è come dire ho rubato dei soldi e ovviamente non può essere una cosa, quindi io credo e mi auguro che l'abbia detto a battuta, perché non si possono prendere dei fondi e poi smantellare il giorno dopo l'opera per cui si è avuto il finanziamento, quindi tu la devi mettere a frutto e il punto è che non si capisce se la vogliono mettere a frutto, se la vogliono sistemare magari adeguandola a quelle che sono, ed è questa la nostra richiesta, adeguandola a quelle che sono le indicazioni delle piste ciclabili, ad esempio ci sono delle vie dove la pista ciclabile è gigante, passerebbero a momenti due macchine e poi una parte magari di pista ciclabile che va di fronte all'ingresso di una casa o una finestra, quindi è chiaro che deve essere comunque rivista. Il problema dell'illuminazione è un problema, c'è il paese è totalmente al buio. Tu però sei competente nel settore, ricordiamo a parte il tuo impegno politico, la tua professione, sei una commercialista, parlano di un comune in predissesso che non ha i soldi, quindi come facciamo a gestire il quotidiano? Anche su questa vicenda, perché noi abbiamo deciso poi di passare all'opposizione? Perché innanzitutto era stato contratto un mutuo dai sindaci, lo sai, di 6 milioni di Euro, se veramente si fosse voluti uscire immediatamente dal dissesto, l'abbiamo detto sia io che in quell'occasione del consuntivo e sia il consigliere sgarlato anche, tu potevi impiegare tutti quei soldi per uscire dal dissesto, il problema è che poi non si riusciva a chiudere il bilancio, quindi quei soldi sono stati utilizzati per fare altro, però noi intanto come cittadini paghiamo il mutuo e lo pagheremo per tantissimo tempo, ad esempio perché io dico sono inadeguati, alcune scelte noi non le avremmo mai fatte, perché questa è una questione politica, quando noi diciamo dei soldi vengono stornati dal capitolo che riguarda l'istruzione e spostandoli alla festa di Portosalvo, anche se temporaneamente per noi è una cosa che non deve esistere, perché? Perché prima di tutto c'è l'istruzione, quando cade un cornicione in una scuola è normale che poi c'è tutta la cittadinanza che ti dà addosso, allora quei soldi lasciali lì, non spostarli per la festa di Portosalvo che comunque è già ricca di suo in un certo senso, che è importante quanto vuoi, però ci sono delle cose a cui noi avremmo dato priorità, vedi altre cose tipo di feste o altri soldi destinati per altri tipi di manifestazioni, quindi noi in quel caso avremmo fatto delle scelte differenti, quando noi attacchiamo sulla questione cartelle pazze, è vero che il Sindaco non ha la competenza piena perché è l'organismo straordinario di liquidazione per quanto riguarda quel tipo di cartelle, però una risposta da parte dell'assessore competente che mi dice sì, noi abbiamo già provveduto, però di fatto tu sai benissimo, lui è un commercialista come me e sa che se non viene stoppato a borigine, comunque la cartella procede, entro i 60 giorni se non fai ricorso, non te la vai a discutere, entro i 30 giorni si procede, allora di fatto non hai fatto nulla, quindi questa è come la vecchia questione che si era posta all'inizio per quanto riguarda gli altri tributi, la stessa cosa anche per quanto riguarda la differenziata, voi ricorderete è partita la differenziata, è partita tra l'altro con una grande accelerata perché noi abbiamo chiesto tra l'altro le dimissioni dell'assessore, dell'assessore del Vice Sindaco, allora probabilmente come risposta, come forma di risposta è stata data questa accelerata, ma senza informare la cittadinanza, quindi i cittadini non sapevano neanche le cose basilari, dove buttare la carta, dove gettare quando partiva la differenziata in una zona piuttosto che in un'altra, c'è stata la confusione totale, noi infatti come Partito Democratico abbiamo fatto una cosa semplice, informativo che avrebbe dovuto fare l'amministrazione ma non ci ha pensato e qui non si tratta, non mi venite a dire che il Comune è in dissesto e quindi non si può organizzare una giornata, una o più giornate di informazione per i cittadini, è questa l'incapacità del ruolo che noi denunciamo di questa amministrazione. Senti per finire, volevo chiederti una cosa, a parte quello che è stato ormai il Consiglio avrà secondo me anche delle ripercussioni successive, perché comunque dopo questo tipo di atteggiamento che poi vede un segretario regionale andare a chiamare, perché da quello che so si sono sentiti, poi subito per il Consiglio Comunale il Sindaco con il segretario regionale e Bagorno, che comunque voi siete il primo partito della città di Siderno, il primo cittadino secondo lei vi siete sentiti dopo, avete parlato con il Sindaco Fuda dopo il vostro atteggiamento e dopo la seduta? No, il Sindaco Fuda non ci ha né contattato né c'è stato modo di sentirlo, tra l'altro un'altra cosa che mi è stata fatta notare, perché io ovviamente quel sabato ero presa da altro, però quel sabato c'è stato il premio La Torre, che è praticamente il premio letterario più importante per noi e in quell'occasione il Sindaco non ha reputato di dover spendere neppure una parola per il Consigliere Comunale che ha subito quest'atto intimidatorio, quindi sono tante piccole cose che fanno capire l'atteggiamento e l'impatto in un certo senso, l'approccio volevo dire scusami, che ha questa amministrazione verso questo tipo di problematiche, sembra siamo tutti dei leoni, sono anzi in questo caso tutti dei leoni quando devono attaccare Trenitalia, quando devono attaccare il governo nazionale, quando devono attaccare il governo regionale, però quando si tratta di questioni veramente importanti che riguardano la nostra terra, il nostro territorio, un Consigliere Comunale che ripeto rappresenta la cittadinanza, non è Maria Teresa Fragomeni, ma è Maria Teresa Fragomeni in quanto rappresentante del comune di Siderno e quindi dei cittadini di Siderno, allora sembra quasi intiepidita, non siamo più leoni, ma siamo un po' più pecorelle. Sul finale, un'ultimissima cosa perché poi mi è venuta in mente, perché ho ricordato, ho visto anche le immagini del Consiglio Comunale, ho visto il Consigliere De Leo, il Consigliere De Leo che qualcuno dice che è in bilico, lo sta in una fase di stand by, però si è schierato, correggimi, io poi ho visto solo delle battute, anche io ho letto un po' e poi eravamo presenti in quel Consiglio Comunale, se non sbaglio nel suo discorso ha speso delle parole a tuo favore, nel senso anche lui dice non capivo l'opportunità. Infatti tra l'altro la domanda, almeno da quello che ho potuto sentire perché qualcuno ha registrato, il Consigliere De Leo ha ripetutamente chiesto qual è stata la motivazione per la quale il Presidente ha reputato di dover raggiungere altri punti e di fare un Consiglio Comunale normale piuttosto che non straordinario, aperto e di fatto a tutt'oggi ancora sto aspettando la risposta, il Presidente non ha risposto, non ha risposto al Consigliere, non ha risposto al Consiglio, non ha risposto anche a me, quando ho detto ma scusa Paolo non si è mai visto, tu sei stato Consigliere Comunale con me tanti anni, abbiamo purtroppo… assistito, assistito a tanti altri atti intimidatori, tu sai benissimo che la procedura è stata, la prassi non procedura, è stata sempre un'altra, per quale motivo? E lui non mi ha saputo dare una risposta, quindi la cosa che mi viene da pensare è al di là dell'approccio sbagliato, il fatto che Fattore Comune ha fatto una richiesta, si è seguito la richiesta di Fattore Comune, però sta di fatto che a tutt'oggi io rimango con questo interrogativo, per quale motivo si è reputato di dover fare dopo due settimane un Consiglio Comunale normale, un Consiglio Comunale dove non c'è stata la propaganda, perché voi avete visto anche al di là dei soliti affezionati che prendono parte ai lavori comunali, non c'era la cittadinanza e questa è una sconfitta per Siderno. Ovvio, lei dice che per l'epilogale non è il discorso, anche perché mi sento a disagio, io Maria Teresa Farrigomeni che sono comunque, non comunque, sono la vittima in questa situazione, andare o a chiedere o a verificare un Consiglio Comunale aperto che era in quel caso, aprendolo in quel momento, c'erano solo i soliti noti che erano seduti normalmente praticamente nella sala del Consiglio, non dando l'impatto anche alla stampa, perché poi comunque avrebbe fatto una risonanza per dire Siderno c'è ed è contro questi atti, poteva essere il Consigliere Fragomeni o poteva essere un pincopellino qualunque. Esatto, ma infatti il nostro voler, quella che è stata scambiata per esigenza da parte del Presidente del Consiglio, perché quando mi ha telefonato mi ha detto ho ricevuto la vostra esigenza, non era un'esigenza del Partito Democratico, ripeto, era un approccio, dare l'idea proprio della cittadinanza, del Consiglio, quindi delle istituzioni contro questo tipo di atto, quindi invitando il più possibile la cittadinanza a far vedere che Siderno è contraria a queste cose, invece così è passato tutto in sordina, quasi come se l'atto indivinatorio fosse fanalino di coda rispetto alla questione del treno. A Bruciabello secondo lei ci sarà un turnover in Giunta? Io da un anno, io quest'estate non faccio i nomi chi mi ha detto sta cosa, ma io parlando con qualche consigliere dicevo io so che ci sarà un turnover, poi non c'è stato? Lo vede soddisfatto il Sindaco? Lo vede? Io sono sincera, a me il Sindaco ha sempre chiesto e detto tu quando vuoi entrare in Giunta, puoi entrare in Giunta, però per me la politica non si fa così, la politica non è se io voglio entrare in Giunta, perché se avessi voluto entrare in Giunta l'avrei fatto un anno fa, per noi c'è un rispetto, per noi il punto è questo, Maria Teresa Fragomeni non rappresenta, Maria Teresa Fragomeni rappresenta un gruppo che è il Partito Democratico e quindi alle spalle ha tutta quella cittadinanza, i cittadini in generale di Siderno, però tutta la cittadinanza che ha votato e ha sostenuto il Partito Democratico e probabilmente quella parte, se avesse saputo che il Sindaco Fuda faceva delle scelte ed era così legato ad un'altra parte di maggioranza, a fattore comune, probabilmente avrebbe votato in modo differente, non è detto che avrebbe votato Fuda, non è detto come ho detto prima, che avremmo potuto anche noi decidere di fare delle scelte differenti, che noi per il bene del centro-sinistra e di Siderno, per far uscire Siderno dalle secche, tra l'altro pensando che Fuda avesse tutte le capacità per poterle fare e noi ovviamente dando il nostro contributo, però in realtà non è stato così, quindi credo che il turnover non lo farà, non lo farà il Sindaco Fuda, se lo vuole fare le nostre esigenze, in questo caso posso parlare di esigenze che poi sono quelle della cittadinanza e quello di azzerare e rivedere totalmente la giunta, totalmente perché? Perché purtroppo questa giunta ha dimostrato di non essere all'altezza della situazione. Però ricordiamo che se ci sarà un turnover potrebbe, in giunta, potrebbe saltare anche qualche consigliere, perché se si fa qualche turnover c'è una incompatibilità. Dovesse essere un turnover? Innanzitutto al di là del Presidente del Consiglio che è comunque è l'unico che rimane in carica, gli altri poi non sarebbero più consiglieri. Consiglieri, è rischioso anche per il Sindaco fare un turnover. Quindi probabilmente forse valuta anche questo, non lo so sinceramente, però fossi io al posto del Sindaco, sinceramente non vorrei chiudere la mia carriera politica così, perché effettivamente Siderno purtroppo siamo già a due anni, si può dire quasi, un anno e mezzo abbondante da quando si è votato e ancora non si è visto nessun risultato. Grazie, grazie a Maria Teresa Fragomeni, un in bocca al lupo, un in bocca al lupo sincero. Grazie e con il 60 News di questa sera, di sabato, termina la settimana nostra di informazione, un'informazione che vorrei ricordare, domani non parliamo, però comunque domani ci sarà, quindi c'è il silenzio, la pausa di riflessione, quindi ovviamente noi non abbiamo parlato di politica, però come giusto che sia, domani sueggi aperti dalle ore 7 alle 23, quindi questa è semplicemente un'informazione. Grazie ancora e buona serata a tutti. Grazie a tutti. Rita Severino, la festa, gli ambiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriannale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Per esempio. Come èuto la manda. E' un nome della telefonica. Come è stato Grazie a tutti. Grazie a tutti.